Cioè è possibile che siamo così stupidi che a fine giugno ci siamo accorti che pranzare fuori era la cosa migliore da fare in assoluto nella nostra vita? Cioè ci sta il vento, c'è tutto, guarda, cioè ragazzi dovete mangiare fuori il giardino se ce l'avete. Cioè noi siamo fortunati, ce l'abbiamo, però c'è cazzo. Oppure fuori il balcone. Eh pure fuori il balcone, cioè anche se fuori il balcone, ma che c'entra fuori il balcone? Cioè non vuol dire niente, ma non c'entra, che vuol dire? La mia sorella dice cose a caso a volte, vabbè. Ah è vero. Vabbè è vero. Vabbè c'è cavolo. Cioè rimetti pure la Nintendo Switch. Ma lascia, stai Nintendo Switch. Vabbè, allora. Ehm, cioè è fantastico ragazzi, veramente dovreste provarlo. A tutti. Zitt, non mi interrompere. A tutti Luigi. Sì vabbè, allora. Eh, non vuole che si, non vuole farsi vedere però vabbè. E quindi c'è cosa parlo a fare, non lo so. Aspettate un secondo, ok. Vabbè, ciao. Un video inutile.